Ok, benvenuto a questo video di oggi, molto semplice, qui ti mostro semplicemente come fare una sequenza di quattro accordi di un semitono, di una fa diesis e solo, praticamente tra questa sequenza puoi partire e fare come ti pare, puoi fare due tanti e quattro personaggi, puoi veramente fare, una sequenza di ti pare, ti piace, è molto importante, poi questa schiena, questa schiena è molto molto importante tra parti e vai oltre la schiena, inizia quanto ci sopra nella mia mia, vai lì, e fanno tutto in due di mezzo, se non ha un accordo che suona. E fai quattro linee di trenza, guarda che non è questa forma, e praticamente credi, non riesco a fare quattro semplici accordi di scala da semitono, gioco su video.